Buonasera a tutti e benvenuti a questo appuntamento della serie appunto della voce dei libri all'archiginnasio che l'istituzione biblioteca del comune di Bologna organizza ormai da tempo insieme a Coppa Alleanza 3.0 e alle sue librerie. Questa sera abbiamo una occasione importante, presentiamo un piccolo ma importante libro dedicato allo sviluppo sostenibile, parliamo di sostenibilità sociale, economica, ambientale con ospiti davvero illustri a partire dagli autori del volume Pierluigi Stefanini e Enrico Giovannini, poi abbiamo appunto vari interventi, Vincenzo Collari, Tagedini, Fabrizio Ricci, Alberto Vacchi che sono appunto nostri graditissimi ospiti. Il dibattito sarà coordinato da Fabrizio Ricci che è anche il curatore del volume. Prima di passare la parola appunto al curatore ci tengo a segnalare soprattutto per i soci di Coppa Alleanza uno dei prossimi appuntamenti del ciclo, quello della presentazione del volume Cercami che si svolgerà al MAST e per tale occasione i soci di Coppa Alleanza avranno disponibili 100 posti riservati. All'ingresso trovate un bigliettino pro memoria che anche indica la modalità per appunto iscriversi. Quindi grazie per questo nuovo appuntamento e la parola appunto a Fabrizio Ricci. Buonasera, benvenuti a tutti. Io appunto sono Fabrizio Ricci, sono un giornalista e ho avuto il piacere di curare per la casa editrice di S questo volume conversando con Enrico Giovannini e Pierluigi Stefanini. Ruberò davvero pochissimi minuti perché naturalmente siamo qui per ascoltare i protagonisti e gli ospiti che ringrazio molto per la loro presenza qui, però mi corre l'obbligo di fare alcuni ringraziamenti molto sentiti. Il primo a chi ha organizzato questa bellissima presentazione in questo luogo così prestigioso e meraviglioso che davvero mi rende orgoglioso di poter essere qui a presentare il libro e poi naturalmente un ringraziamento agli ospiti che interverranno, Rita Ghedini, presidente di Lega Copp Bologna, Alberto Vacchi, presidente e amministratore di IMA. Un ringraziamento particolare a Vincenzo Colla, vice segretario generale della CGL, anche mio vice segretario generale perché io sono giornalista e lavoro dentro la CGL e sono naturalmente legato molto a questa organizzazione, non solo per motivi professionali, quindi per me è un grande onore averlo qui oggi a parlare di questo libro e poi un ringraziamento sempre in ambito CGL alla casa editrice che ha editato questo libro e di esse e in particolare al curatore della Collana conversando con Gaetano Sateriale che è qui con noi e che ringrazio molto per avermi dato la possibilità per la seconda volta tra l'altro di cimentarmi con un volume. Poi naturalmente è dovuto un ringraziamento molto sentito ai due protagonisti della conversazione, Enrico Giovannini, portavoce di Asvis e Pierluigi Stefanini, presidente di Asvis, prima di tutto perché sono stati al gioco di questa conversazione a tre che se volete è piuttosto inusuale per libri di questo tipo, ma io credo che sia in realtà un valore aggiunto per chi leggerà il volume perché seppure c'è un'ampia naturalmente convergenza di vedute, tra i due ci sono anche delle sfumature, anche dei punti di vista non sempre convergenti che credo rendano la lettura anche più interessante. Poi vorrei ringraziarli anche perché il libro è stato scritto in un periodo molto movimentato, direi turbolento per il nostro paese, è stato scritto a cavallo tra due commissioni europee, è stato scritto a cavallo tra due governi, pensate che sostanzialmente a fine luglio il libro era ultimato, dovevamo andare alla correzione delle bozze, dopodiché nei giorni successivi come sapete è successo un po' di tutto, è caduto un governo, ne è arrivato un altro che tra l'altro ha dimostrato sin dall'inizio, almeno nelle intenzioni programmatiche, un approccio diverso, sicuramente anche più attento alle questioni della sostenibilità e questo ci ha imposto di rimettere abbondantemente le mani al libro, cosa che sia Giovannini che Stefanini si sono resi disponibili a fare concedendomi ulteriori puntate di conversazione e questo rende il libro, credo possiamo dire, davvero molto attuale perché arriva fino quasi ai giorni nostri. Due parole su quelli che sono, almeno dal mio punto di vista, i messaggi forti, quelli più chiari che emergono dal libro. Il primo si può esemplificare con una bellissima metafora che è stata usata in sede della presentazione dell'ultimo rapporto di ASVIS lo scorso ottobre a Roma, che è quella della necessità di unire i puntini, così come si fa nei giochi della settimana enigmistica, dove ci sono tanti puntini che collegati con una matita poi mostrano un disegno sensato. Ebbene, questa metafora vale molto per l'impegno per lo sviluppo sostenibile e per quello che Agenda 2030 chiede di fare. Agenda 2030 che non ho ancora nominato ma che in realtà è centrale in tutto il libro, questa Agenda delle Nazioni Unite, sottoscritta praticamente da quasi tutti i paesi del mondo, che si pone una serie di obiettivi molto ambiziosi da realizzare appunto da qui al 2030 e che però o vengono in qualche modo perseguiti insieme in maniera sistemica, su questo sia Giovannini che Stefanini insistono molto, oppure è difficile raggiungerli. Quindi l'equivoco della sostenibilità intesa soltanto come sostenibilità ambientale va in qualche modo superato, non a caso i primi gol, i primi obiettivi che Agenda 2030 si prefigge sono obiettivi di carattere sociale, come sconfiggere la fame, la povertà e poi c'è la lotta alle disuguaglianze, altro aspetto fondamentale. L'altro secondo me messaggio forte che si percepisce sin dalle prime righe del libro è quello dell'urgenza. Dicevo appunto che l'Agenda dell'ONU si chiama Agenda 2030 perché fissa una data ben precisa che è quella del 2030, quindi più o meno fra dieci anni. Ora nelle nostre singole vite dieci anni possono naturalmente sembrare un periodo anche medio lungo se le guardiamo dal punto di vista della nostra esperienza quotidiana, ma se invece le proviamo a guardare con le lenti del pianeta è chiaro che dieci anni diventano, come provo a scrivere nell'introduzione un battito di ciglia, quindi ci sarebbe forse bisogno, e questo provano credo a trasmettere i rappresentanti di ASVIS, di una certa ansia, di un senso di urgenza che invece probabilmente, in particolare nella classe politica ma anche nell'opinione pubblica non è ancora ben presente. Ecco io mi fermo qui anche perché abbiamo naturalmente dei tempi ristretti e abbiamo soprattutto voglia di ascoltare gli interlocutori che approfonderanno i temi del libro, ai quali devo chiedere anche loro di essere in qualche modo sostenibili nei tempi dei loro interventi perché appunto vorrei provare a fare almeno, non almeno, vorrei provare a fare due giri di tavolo, questo però richiede che voi cerchiate di stare in pochi minuti, adesso 5-7 per riuscire appunto a fare due giri. Vi propongo di fare un primo giro sugli aspetti di carattere più generale, quelli che malamente provavo anche ad accennare adesso nell'introduzione e un secondo invece un po' più guardando all'attualità del nostro paese ma anche di questo territorio che sicuramente ha molti aspetti di interesse e anche esperienze da raccontare in materia di sviluppo sostenibile. Inizierei dal segretario, dal vice segretario Vincenzo Colla e vorrei riprendere proprio quella metafora che dicevo prima, quella dei puntini. Secondo lei quali sono i puntini che le organizzazioni sindacali, chi rappresenta il mondo del lavoro deve contribuire ad unire e può essere la battaglia per la sostenibilità una nuova chiave anche dell'azione sindacale per cambiare l'attuale modello di sviluppo che si è dimostrato insostenibile? Nel libro tra l'altro si parla molto del ruolo importante dei corpi sociali per avviare una crescita sostenibile. Ecco questa è oggi la sfida del sindacato, segretario. Grazie dell'invito veramente di poter dialogare con interlocutori di questa autorevolezza. Ma se noi non stiamo dentro in questo cambiamento non è che possiamo continuare a dire gli altri che devono cambiare, noi non stiamo dentro a questo cambiamento, mi sembra evidente che c'è una transizione culturale che deve fare la transizione manifatturiera, deve fare la transizione dello sviluppo, senza un cambiamento culturale si rischia di arrivare a piedi liste e quando sei a piedi liste ti resta o il conflitto di essere marginale. Se siamo dentro a questo perimetro noi viviamo in una regione che io penso che debba essere presa come alcuni esempi positivi, ovviamente una regione non fa un modello, però il modello di questa regione pensato a suo tempo, io cito ad esempio il patto per il lavoro che è stato fatto in quella regione, ragionavo nel 2015 è successo di tutte, è successo il patto per il lavoro, è successo l'ONU, è successo l'Avodato sì, anche l'ASVI se non sbaglio è nata nel 2015, quindi c'è stato un pensiero che si è mosso in quella direzione, un'elaborazione, aver visto dove stava andando il mondo e in questa regione cosa è che abbiamo messo a fuoco quattro filiere che io ritengo che siano ancora totalmente determinanti dal punto di vista dell'agire sindacale, dell'agire del pensiero, anche della cultura. Quando abbiamo fatto quel patto per il lavoro ricordo bene che avevamo il centro, ma come si fa a far valore aggiunto in un territorio all'interno di un'impresa? Attenzione non utili, valore aggiunto che è prima dell'utile e il valore aggiunto lì abbiamo posizionato un canovaccio che era molto preciso, riusciamo a fare valore aggiunto se riusciamo a dare sapere e conoscenza, sapere delle mani come diceva anche Tullio De Mauro alla nostra gente, quindi c'è stata un'operazione di spingere la macchina sulle competenze, sul sapere con alleanza anche per alcuni aspetti pubblico e privato dal punto di vista anche dell'alternanza della scuola e lavoro, di un intreccio di quella portata e in quello scenario abbiamo iniziato a progettare qual era il cambiamento che c'era in atto. Guardate che uno dei driver che abbiamo visto e secondo me abbiamo fatto bene con tutti i problemi che ci restano era che stavano cambiando nettamente le filiere produttive, sia quelle che hanno una traiettoria ambientale, sia quelle che hanno una traiettoria di innovazione dove la carica di innovativa avrebbe cambiato la storia anche manifatturiera della nostra regione, qui abbiamo imprese, non aspetta me a dirlo, c'è stato un cambiamento in questi anni inedito che ha avuto una velocità che se non avessimo programmato un ruolo anche di relazioni nuovo avremmo avuto uno spiazzamento dentro anche i luoghi di lavoro. Secondo, uno dei tratti fondamentali era che abbiamo un grado di illegalità, che dobbiamo recuperare la legalità quale idea anche di produrre e di stare in un sistema territoriale. Pochi sanno che Emilia è derivato da quel modello. Quando abbiamo deciso di fare quell'operazione dentro Emilia noi siamo andati a dire che servivano alcune regole e quelle regole hanno permesso di dare le istituzioni informazioni, di dare testimonianze e di scoprire che in realtà c'era un problema anche nella nostra regione. Quindi provate a immaginare il modello di relazione che abbracciando la legalità è riuscito ad arrivare fino lì. Secondo, avevamo un problema di sviluppo sostenibile, per sviluppo sostenibile non è solo sviluppo sostenibile anche riuscire a creare lavoro, non c'è uno sviluppo sostenibile che fa una cesura tra produzione e lavoro. E quindi come unire lo sviluppo con la tenuta occupazionale, la tenuta di un lavoro dignitoso di qualità è stato il tratto di quel patto per il lavoro. Tutti questi tre punti avevano un problema di tenuta storica, identitaria di questa regione. Qual era il tratto che doveva legare tutto, quasi un tratto europeo? Qual è stata la grande mediazione in Europa che ha fatto la qualità della vita in Europa? Tra capitale del lavoro la più grande mediazione che abbiamo fatto è stato il welfare. La capacità di ridistribuire e quindi di permettere che anche le figure più deboli, la scuola, la sanità, la previdenza, la più grande mediazione che ha fatto la qualità e la storia dell'Europa è in realtà la storia anche della nostra regione. Questo è stato il tratto di una discussione che io penso sia un fatto molto importante e lì dentro poi tutta l'innovazione, come far attrarre investimenti, come ovviamente avere anche un sistema pubblico che fosse in grado di vedere i cambiamenti. Ora, e arrivo a sto nei tempi, io vedo sì in questa regione che a livello nazionale, per come noi stiamo discutendo, adesso se discutiamo di sviluppo sostenibile potrei discutere il cosa succede a un tavolo come Ilvam oppure come succede a un come Alitalia. Io penso, guardate, che il manifatturiero, un nuovo manifatturiero, noi siamo abituati a quella cultura taylorista che ha dato tante soddisfazioni, ma quel modello non c'è più, non c'è l'impresa soltanto, ma c'è un pacchetto dove nell'impresa è collegato un terziario, è collegato la finanza, è collegato un sistema commerciale, sono collegate le persone. Io devo vedere questo pacchetto e essere in grado di governare questo pacchetto. È una novità anche per il sindacato. Io se guardo solo dentro le imprese, non guardo il sistema delle forniture, non guardo come sono i flussi finanziari, cosa sta avvenendo? Che dentro la crisi abbiamo perso 300.000 imprese e la stragrande maggioranza di queste imprese le abbiamo perso perché erano sottocapitalizzate, senza investimenti e innovazione, senza competenze e c'è una bolla di queste imprese che rischia di allargarsi tuttora perché non sono in grado di stare nella filiera del cambiamento. Essendo noi a morfologia di piccole imprese o attacchiamo queste piccole imprese alle medie imprese che faranno la differenza, che sono in grado di stare nel mondo, che hanno capito anche che c'era più mercato di prima, o altrimenti il tema anche della tenuta occupazionale rischia di essere classico. Siccome non svaluto la moneta, svaluto il lavoro, svaluto i diritti, vado in auto avvitamento, penso di competere così e c'è sempre qualcuno che costa meno. E l'altra grande rivoluzione io penso per il manifatturiero, prima dell'industria 4.0 c'era la rivoluzione energetica. Guardate come noi governiamo l'energia farà la differenza del manifatturiero e farà la differenza del nostro ambiente. Dire energia vuol dire determinare le filiere strategie, dire energia, se io guardo energia in questo paese c'è anche un tema di competitività, è vero che l'energia costa il 30% in più, quindi se io parlo di produttività in questo paese devo parlare di energia, di logistica, di mobilità, perché quello determina anche la competitività del nostro sistema di imprese. E dire energia vuol dire che noi essendo un paese gommacentrico a scoppio lo dobbiamo mettere dove? Sui binari, sull'elettrico, sull'idrogeno, su filiere strategiche e guardate che gli altri stanno già facendo investimenti enormi. Questa crisi non è la crisi classica, è una crisi di cambiamento di filiere strategiche, perché il mondo che vuol dire sta cambiando a una velocità inedita, se io guardo la Cina alcuni lavoratori mi hanno detto i cinesi stanno arrivando, no i cinesi sono già qua e stanno determinando in Europa vuol dire uno spostamento inedito, la Volkswagen sta facendo 25 miliardi di investimento sull'elettrico che cambierà una delle filiere automotive importantissime per l'Europa, perché? Perché di là dalla Cina non è che vogliono andare con le mascherine, hanno deciso che nei prossimi dieci anni il 40% di auto che entra lì devono essere auto elettriche, siccome il 40% dei fattorati di tutti i grandi gruppi europei sono lì, stanno facendo un investimento inedito, oppure due grandi major che tirano su petrolio, la Total e la Shell, stanno facendo investimenti inediti sull'idrogeno che è l'altra grande tecnologia che cambierà le filiere e le stanno facendo con la Toyota e la Mitsubishi, ecco noi dobbiamo vedere questo cambiamento e mettere le nostre filiere in quella rete, quando diciamo FCA e PSA diciamo che per noi cosa vuol dire quella componentistica, che abbiamo bisogno di cambiare quelle componenti e lì serve una politica industriale che guarda il nostro paese nei prossimi dieci anni, altrimenti se non stiamo su quelle filiere noi diventiamo un paese subordinato, di componentistica anche un po' povera e il tema dell'occupazionale diventa un tema evidente. Questo è il tratto della discussione che noi stiamo facendo e dobbiamo guardare con molta attenzione, c'è un investimento finanziario su queste filiere sostenibili evidente, la cultura per fortuna dell'ambiente, qui abbiamo il professor Giovannini, abbiamo collaborato con lui, stiamo discutendo col governo, per fortuna c'è quella cultura, guardate io, quei ragazzi che per la prima volta hanno reagito e hanno fatto quell'iniziativa mondiale, quei ragazzi lì noi li dobbiamo abbracciare, abbracciare, il mirino l'hanno posizionato giusto, il tema ambientale, il tema del futuro, hanno ragione, li dobbiamo abbracciare, anzi per la prima volta ragazzi che escono dal computer e ritornano in piazza, fan politica, ci pongono dei problemi, li dobbiamo abbracciare ma nello stesso tempo gli dobbiamo dire delle verità e concludo. Con questi ragazzi ho parlato con tra o quattro di loro per capire, è molto bello anche sentirle, hanno anche dei valori, hanno anche delle radicalità, però nel dialogare dobbiamo dire alcune verità, la prima è che facciano un'espulsione sostenibile anche su di noi, in modo che devono programmare anche su di noi, ma io ho detto guardate io devo andare in Sardegna, una regione bellissima, l'energia in Sardegna viene fatta da due centrali a carbone, qui il professore lo sa, se io chiudo quelle due centrali a carbone e chiude la Sardegna, io le voglio chiudere, ma se io chiudo quelle due centrali a carbone, lì attaccato c'è l'Alcoa, c'è Porto Vesma, ci sono quei elmetti gialli che vedete in televisione, se io a quelli gli vado a dire che chiudo la centrale a carbone e che perdo il posto, quelli non diventano ambientalisti, diventano una rabbia di destra contro il sistema democratico e quindi noi non dobbiamo alimentare la bolla in quella bolla di rabbia che non ha risposte, che scavalca le rappresentanze, scavalca i corpi intermedi, noi dobbiamo progettare, tenerli a carico e progettare il fatto che quel cambiamento non può essere un cambiamento che si scontra con la tenuta sociale, se c'è un binomio noi faremo ambiente, se progettiamo anche la tenuta sociale nel fare ambiente. Questo è il tratto politico-sindacale che stiamo progettando. Grazie. Grazie segretario. Anche nell'intervento di Colla c'è molto della responsabilità e del ruolo delle imprese. Allora Alberto Vacchi, lei è citato nel libro come un esempio di imprenditore che ha colto e accettato anche la sfida della sostenibilità, per esempio sul versante di come si trattano il rapporto con i fornitori, con gli appalti eccetera. Però da imprenditore, quindi possiamo dire tranquillamente da capitalista, tra l'altro alla guida di una grande azienda multinazionale, come interpreta questa necessità forte che emerge anche dal libro naturalmente di modificare profondamente l'attuale modello di sviluppo economico e eventualmente come. Intanto grazie dell'invito che ho apprezzato tantissimo. Condivido assolutamente quello diceva Vincenzo Colla relativamente al tema di contesto. Mai come in questo momento, quando ragioniamo del tema della sostenibilità, devo parlare di due elementi cardini. Certamente una sostenibilità di mercato, perché di fatto siamo di fronte per la prima volta dopo anni, a una richiesta esplicita del mercato verso un tipo di mondo economico sostenibile, prodotti sostenibili che il mercato stesso richiede. L'altro aspetto che forse è ancora più importante, molto più importante soprattutto nel nostro contesto italiano, è quello del sistema complessivo che riesce a promuovere un percorso nuovo. E mi rifaccio a quello che lo stesso libro riferiva rispetto all'esempio IMA, lo dico soltanto come esempio che si è promosso relativamente al tema della sua fornitura, per capire quanto sia importante il ragionamento di contesto. È chiaro che tutto ciò è possibile in un ambito territoriale come questo, che si è sviluppato e cresciuto culturalmente in un certo modo. Ma in realtà quando tu entri in una logica in cui la ripartizione della ricchezza la puoi realizzare solo attraverso un percorso di condivisione, quindi una condivisione che sia della ricchezza stessa sia dei percorsi che la ricchezza inevitabilmente deve produrre per arrivare a pallino. Ecco, in questo caso possiamo capire come quel tipo di ripartizione non riguarda solo l'aspetto economico, ma riguarda un aspetto molto più ampio rispetto a quello semplicemente economico. Prima fra tutti un aspetto culturale che deve necessariamente costituire un percorso orizzontale che non può essere più solamente quello della singola impresa, della grande impresa, ma deve essere quello della grande impresa che unitamente a una serie di elementi collaterali, che altro non sono più le filiere, possono partecipare al percorso di crescita economica di un territorio. E qui c'è un esempio chiaro, che nel caso di IMA si è sviluppato, ma che tradizionalmente veniva dalla logica dei vecchi distretti che si è poi evoluta qui attraverso questa nuova forma di percorso condiviso. Questa è, diciamo, la grande svolta epocale di sistema che trova una delle possibili declinazioni qua in Emilia-Romagna, dove per, come dicevo prima, tradizione culturale, per abitudine a confrontarsi con l'altro, diventa più semplice che altrove. Poi è evidente che questa ricetta, dal mio punto di vista, può essere chiaramente applicata non necessariamente solo al nostro territorio. Sarebbe assurdo pensare a un modello che può essere applicato solo al territorio emiliano-romagnolo, perché di per sé sarebbe impossibile da promuovere al di fuori di questi contesti. Invece ci rendiamo conto che in un mercato fortemente competitivo, come quello che affrontiamo quotidianamente, che richiede di fatto prodotti altamente sostenibili, la forma migliore per raggiungere l'obiettivo è quella di costruire un percorso sostenibile in termini produttivi e in termini di modello. È l'esempio che è stato sottolineato, che il più volte fatto non solo dalla mia realtà industriale, ma devo dire da tantissima realtà industriale, è stato quello di percorrere una strada in cui ogni tassello svolge un ruolo ben preciso. E ognuno di questi tasselli riesce a raggiungere un obiettivo condiviso trasversalmente, in cui i valori aggiunti vengono spalmati. Ricordiamo bene che i valori aggiunti non sono esclusivamente di tipo economico, sono proprio di trasferimento culturale di insieme che alla fine fa crescere globalmente l'intero contesto sociale. Questo è possibile solo attraverso una presa di coscienza che soltanto condividendo quei percorsi si riescono a raggiungere quei risultati, che automaticamente producono capacità competitiva impensata fino a qualche anno fa. Questi modelli si contrappongono abbastanza apertamente ai modelli tradizionali che ritroviamo in ambito continentale. Noi tradizionalmente ci contrapponiamo al modello tedesco perché come grande contesto manifatturiero normalmente siamo i più grandi competitori di quella realtà. Il modello tedesco è molto differente da quello nostro. Dico nostro, dico proprio nostro emiliano perché poi come regione emiliana possiamo tranquillamente confrontarci in termini di capacità competitiva con le stesse regioni tedesche. Anche perché in quel modello hanno provato ad imitare la logica dei distretti con logica però molto differente. C'è ancora un rapporto cliente-fornitore molto spinto, cioè con la voglia di squizzare fra virgolette il fornitore rispetto a un percorso che viene predeterminato però con la logica sempre in cui il committente tende a prevaricare sul fornitore finale. Qui abbiamo scelto un'altra strada. Visto che la grande competizione necessita di competenze molto ampie abbiamo scelto di condividere queste competenze non nella singola azienda ma su un intero territorio e queste competenze condivise portano a dinamiche di crescita assolutamente impensate solo se si decide fino al primo momento di condividere i passi. Quindi vuol dire grande apertura, grande dialogo che avviene tra singole imprese ma avviene ad esempio, lo dico in maniera molto trasparente e tranquilla, tra imprese e mondo del lavoro. Non è un caso che grandissime conflittualità in ambito locale non si sono verificate, non perché non ci siano state crisi anche importanti, per carità ci sono qui come altrove. Però certamente nel momento in cui esiste un percorso interessante dal punto di vista di mercato si è deciso di condividere quel percorso attraverso tutti gli attori e la condivisione certamente ha dato una capacità competitiva molto forte che ha avuto come grande ricaduta e ha come grande ricaduta una spalmatura molto ampia della capacità competitiva e della cultura competitiva. Questo sta dando un grande risultato, non è un caso che in ambito emiliano-romagnolo la crescita degli ultimi 7-8 anni sia stata decisamente superiore rispetto al resto d'Italia. Non nasce nulla dal caso. Certamente siamo presenti sui settori più interessanti, sui settori destinati all'export e quindi già di per sé più favoriti rispetto a una semplice competizione sul mercato nazionale. Ma siamo riusciti più di altri proprio su questo terreno perché abbiamo deciso di compiere dei passi insieme e compiere dei passi insieme significa condividere i stessi passi. Poi è evidente che quando condividi hai sempre dei possibili elementi di contrasto e anche perché condividere significa spalmare il valore aggiunto, significa anche al tempo stesso decidere di spalmare le competenze. Quindi non arrogarsi l'intera competenza ma distribuirla equamente su questa impresa orizzontale che costituisce la grande impresa competitiva che si contrappone al tuo omologo d'oltrealpe con forza molto superiore rispetto al passato. Quindi certamente noi oggi applicando questo modello che rientra totalmente nel discorso della sostenibilità siamo più forti di prima e abbiamo raggiunto una capacità competitiva molto maggiore rispetto a quella a cui eravamo abituati. Ma l'abbiamo raggiunta perché abbiamo applicato un classico modello di sostenibilità, cioè un percorso in cui il valore aggiunto non solo economico veniva distribuito. Ecco, a questo io credo tantissimo, credo che possa essere una chiave di volta, non dico da esempio immediatamente di cura quellicabile a tutto il territorio nazionale, però certamente è un qualcosa che può andare oltre l'esempio emiliano-romagnolo. Grazie. Mi sembra che nel modello che ha descritto Vacchi ci siano anche dei tratti affini al mondo cooperativo. Nel libro naturalmente si parla anche di cooperazione, di come questo modello al netto delle storture che, ahimè, sicuramente esistono, possa rappresentare un volano di sostenibilità. Io ho letto una frase che Rita Ghedini ha pronunciato all'ultimo congresso di Lega Copp, che mi sembra molto centrata rispetto alla nostra discussione. Lei ha detto, all'economia degli algoritmi e dei lavoretti mal pagati e con scarse tutele, contrapponiamo un'idea diversa di innovazione cooperativa inclusiva, equa e sostenibile. Ecco, può spiegarci in cosa consiste questa diversa idea di economia? Sì, buonasera a tutti e grazie dell'invito. Se avessi trovato la chiave di volta per spiegare questo che è un obiettivo, probabilmente la cooperazione sarebbe molto più sviluppata in questo Paese. Però non c'è dubbio che ci sono intrinseci nella natura e nella struttura dell'impresa cooperativa alcuni elementi di forte consonanza con un modello di sviluppo che tenga insieme la dimensione economica, quindi quella della competitività, quella sociale e quella ambientale e che quel concetto di distribuzione del valore aggiunto che richiamavano adesso sia colla che vacchi, fa parte di quella e parte intrinseca del concetto di mutualità e di intergenerazionalità. Sono questi i primi due elementi che ci, dico ovviamente al plurale, portano a dire che il modello cooperativo in sé, se coerente con i suoi presupposti valoriali e quindi quando è coerente con i propri presupposti valoriali non sempre questo accade, ma ci sforziamo di farlo accadere il più frequentemente possibile e i risultati anche negli anni più duri della crisi di tenuta ci dicono che questo è accaduto, ci rende consonanti con un modello di sviluppo sostenibile. Perché? Perché abbiamo innanzitutto un vincolo all'intergenerazionalità. La cooperazione esiste se in quanto è capace di definire un modello di scambio utile ai soci di oggi ma anche ai soci di domani e quindi di pensare al futuro come obbligo costituente. La cooperazione esiste ed è tale se si pone in ogni momento l'obiettivo di condividere il patrimonio economico, la competenza produttiva e il patrimonio valoriale e quindi non solo di conservare, preservare ma fare quelle azioni che rendono l'impresa utile anche per chi verrà dopo. Negli anni della crisi e probabilmente non a caso la riflessione sull'agenda 2030 e il movimento, tutti gli accadimenti che prima richiamava colla e che si collano, collocano non a caso intorno al 2015 e quindi agli anni in cui abbiamo cominciato a tirare sullo sguardo dopo gli anni più profondi della crisi. Noi ci siamo trovati in questa situazione, in una situazione nella quale le imprese cooperative hanno tenuto, si dice della cooperazione che è un modello anticiclico che tiene quando gli altri chiudono perché risponde a uno degli principi mutualistici forti, quelli di conservare il vantaggio per i soci, per i soci lavoratori, per i soci produttori, al limite della tenuta dei patrimoni intergenerazionali. Che cosa hanno fatto le cooperative nella fase della crisi? Hanno consumato patrimonio intergenerazionale per tenere la mutualità fra i soci in essere in quel momento. Non è ovviamente un comportamento che si può tenere nel tempo, pena quello che dicevo prima, pena la perdita della capacità di poter mantenere l'altro vincolo che è quello all'intergenerazionalità. All'indomani della crisi quindi ci siamo trovati ad osservare una cosa, che le imprese che non solo avevano tenuto meglio fra le nostre, ma che avevano conservato i presupposti migliori per poter investire sul futuro e quindi riprendere lo slancio dell'intergenerazionalità erano quelle che erano riuscite a tenere insieme la condivisione del valore prodotto e quindi l'esercizio del principio mutualistico incardinato nell'oggi, nella congiuntura, con la capacità di guardare oltre e quindi di investire quel po' che ancora si riusciva ad investire nello sviluppo e non in uno sviluppo qualsiasi, ma in uno sviluppo che consentisse di produrre il cambiamento. Le imprese che hanno tenuto meglio sono quelle che sono riuscite a investire ad esempio nella rigenerazione delle competenze anche negli anni della crisi e quindi nell'investire nella formazione e nella trasformazione, nell'adeguamento dei saperi a un modello di produzione che si stava trasformando. Quelle che hanno investito di più nell'immaginare una governance proiettata all'intergenerazionalità e quindi ad investire nella trasformazione, nel cambiamento anche delle responsabilità nell'inclusione all'interno del cerchio delle responsabilità delle nuove generazioni. L'altro elemento di coerenza con l'agenda della sostenibilità è quello che consente alle imprese cooperative di coinvolgere in uno sforzo di responsabilità che va oltre se stesse. Molte persone, il patrimonio dei soci, il patrimonio della partecipazione è un asset di sviluppo fondamentale. Riuscire a condividere con basi sociali anche larghissime, pensiamo alle basi sociali della cooperazione di consumo piuttosto che della cooperazione fra abitanti obiettivi di trasformazione così ampi e così ardui da realizzare è al tempo stesso una sfida importante ma anche una sfida sostenuta da un patrimonio molto molto largo. Si può cambiare l'agenda dello sviluppo lavorando sulla trasformazione del proprio modo di produrre e quello che stiamo cercando di mettere in campo con le nostre associate è una riflessione su questo. Si può trasformare l'agenda individuando nuovi ambiti di produzione che abbiano la cifra della sostenibilità. Abbiamo registrato una maggiore adesione delle nostre associate a un paradigma di sviluppo nuovo quando in quel paradigma vengono individuati degli elementi di vantaggio competitivo, nuove aree di business piuttosto che elementi di migliore valorizzazione del capitale investito. Intendo sia il capitale economico finanziario che il capitale umano abbiamo maggiore adesione quando riusciamo ad investire lo scambio mutualistico in una visione di prospettiva pensata alla capacità forte che c'è nelle basi associative della cooperazione di consumo di orientare la produzione rispetto a stili di consumo diversi e quindi di cambiare il mercato con, come si diceva una volta, con il portafoglio, cioè con la propria capacità di ridefinire gli stili di vita e gli stili di consumo. Quindi diciamo che da alcuni elementi di vincolo stiamo cercando di individuare insieme alle nostre associate degli elementi di forza, di sviluppo e troviamo effettivamente una reazione positiva, una consonanza forte in questo senso. L'ultimo elemento che richiama, che è tipico, costitutivo del modello cooperativo, è il forte legame territoriale. Le cooperative sono imprese di territorio, le basi sociali sono fortemente incardinate sui territori e l'agenda relativa ad un nuovo modello di sviluppo ha credo tanta più forza quanto a più riesci a mettere, lo dicevano i colleghi che hanno parlato prima, in relazione i diversi soggetti collettivi di un territorio, i cittadini, le imprese, le istituzioni. Noi siamo un soggetto di territorio, lo sono le nostre imprese, lo è la nostra forma di rappresentanza e riuscire ad accordare le agende territoriali all'interno di codecisioni e quindi anche formalizzate in strutture pattizie che mettano insieme soggetti del territorio diversi, può imprimere una effettività a un'attenzione al cambiamento del modello di sviluppo a cui credo che la cooperazione che è fatta di persone, quindi di cittadini che vivono, lavorano e incardinano le loro scelte di ogni giorno su un determinato territorio possa avere particolare efficacia. Grazie. Arriviamo ai protagonisti del libro, cominciamo con Enrico Giovannini, al quale volevo dire che sono passati soltanto pochi giorni da quando abbiamo sostanzialmente chiuso il libro dalla nostra ultima conversazione. In realtà però in queste ultimissime settimane sono successi una serie di avvenimenti che forse avrebbero richiesto un altro capitolo del libro. Io penso alla guerra che ha colpito il popolo kurdo, la Siria, ma penso anche a quello che sta succedendo in Cile, una rivolta contro le disuguaglianze, un modello neoliberista molto spinto e poi ancora eventi recentissimi come il colpo di Stato, se si può chiamare così, in Bolivia o le elezioni di ieri in Spagna che hanno visto un'avanzata molto forte, preoccupante di nuovo di una formazione dell'ulta destra come Vox. Adesso ho messo insieme cose che sono sicuramente diverse tra loro, però questo era per chiederle Giovannini se le preoccupazioni che già mi consegnava qualche settimana fa nel libro rispetto alla direzione in cui il mondo sta andando, sono forse ulteriormente aggravate da questi ultimi avvenimenti. Buonasera a tutti, buonasera a tutti, buonasera a tutti, più o meno, sì, buonasera a tutti, sì, forse così va meglio. Grandissimo piacere essere di nuovo qui in questa sala a parlare di un libro in cui certamente con Pierluigi ci siamo aperti e quindi merito di chi lo ha curato in cui è venuto a scandagliare anche una serie di cose non dette finora e altre se ne potrebbero dire, non sto proponendo un secondo libro, aspettiamo un attimo. Però la domanda che è stata fatta è certamente vera. Come abbiamo scritto nella newsletter di ASVIS, forse i fatti di agosto e settembre, compresa la presenza di Greta alla Nazione Unita, hanno fatto capire al mondo che il clima è un problema enorme, il cambiamento climatico, la crisi climatica, che l'ambiente è non tanto a rischio ma è in fase di distruzione, eccetera, eccetera, e ci domandavamo se ottobre non fosse l'inizio di un'altra scoperta da parte del mondo, e cioè che l'insostenibilità sociale è altrettanto accanto a noi, in mezzo a noi, vicina, ma fisicamente non nel tempo, quanto l'insostenibilità ambientale. Ed è una domanda profonda, ma d'altra parte non è una sorpresa, perché se uno per un attimo ragiona su cosa c'è alla base dell'agenda 2030, cioè un giudizio sull'insostenibilità economica, ambientale, sociale e dunque istituzionale dell'attuale modello di sviluppo, non è che il mondo va in crash il 31 dicembre del 2029, e allora i segnali che stiamo vedendo sono, ahimè, segnali di un'accelerazione verso l'insostenibilità, che ci devono far preoccupare molto. Nelle ultime settimane, anzi, negli ultimi dieci giorni, questo per dire come il libro poi evolve, o almeno come il pensiero evolve, sto riflettendo sul tema dell'etica per lo sviluppo sostenibile. Con Pierluigi abbiamo deciso che l'apertura del Festival 2020 dello sviluppo sostenibile sarà su questo tema. Etica, secondo Wikipedia, è una branca della filosofia che studia i fondamenti razionali, non a me mi pare, i fondamenti razionali, che permettono di assegnare ai comportamenti umani uno status deontologico, ovvero distinguerli in buoni, giusti, leciti, rispetto ai comportamenti ritenuti ingiusti, illeciti, sconvenienti o cattivi, secondo un ideale modello comportamentale. Questa è l'etica. Quindi non è l'etica del talk show, vuol dire che io e il mio contraddittore possiamo avere idee diverse. L'etica differisce quando razionalmente arriviamo a delle conclusioni diverse su ciò che è buono, eccetera, eccetera. Razionalmente, non emotivamente. Allora, ascoltandovi, mi è venuto in mente Beccatini, il quale, il più grande studioso dei distretti, diceva sempre, attenzione, la forma distrettuale economica è una forma economica di una forma mentis della società. Non è il contrario. Ecco perché non attecchisce in altri paesi dove il distretto, immaginato come una forma di produzione, è stato esportato e non ha funzionato. Perché dietro ha una società che funziona in quel modo. E dunque il modello distrettuale cooperativo è una forma di organizzazione della produzione che è coerente con l'etica della società. La metto giù dura. Ma il vostro modello, anzi i diversi modelli di cui avete parlato, funzionerebbero in uno Stato sovranista, isolazionista e tendenzialmente nazionalista? A pelle direi di no. Allora capite che quello di cui stiamo discutendo, non solo in Italia, anche altrove, è non solo un altro approccio etico, ma un approccio che non consentirebbe o non avrebbe consentito a un modello come quello emiliano, non parlo degli ultimi anni, parlo storico, di esistere. E portandolo alle estreme conseguenze sarebbe un modello che non avrebbe mai firmato l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. L'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, spero di no, ma verrà ricordato nel futuro come il punto più alto dell'evoluzione della storia dell'umanità. E spero di no, perché spero, come dire, che l'umanità vada ancora più in alto, su quale tipo di futuro vogliamo. Ed è un miracolo, perché se andiamo sull'obiettivo 5, parità tra uomini e donne, pensando che l'hanno firmato tutti i paesi del mondo dove questo non esiste, ma l'obiettivo della piena occupazione e l'hanno firmato tutti i paesi dove questo non esiste e potrei continuare, è chiaramente un'agenda con un'impronta etica fortissima, in cui cioè l'elemento della giustizia intragenerazionale e intergenerazionale, come ha detto Rita Ghedine correttamente, è il supporto etico, la giustizia è l'elemento etico. E senza questa giustizia, anche intragenerazionale, come ci diceva Vecchi prima, non ci sarebbe stato un approccio alla distribuzione di quel valore aggiunto, anche lungo le filiere, non solo tra capitale e lavoro. Senza una visione intergenerazionale, l'approccio cooperativo di cui parlava Rita Ghedine prima non funzionerebbe e così potrei continuare. Dunque, siamo in qualche modo di fronte a un bivio e i segnali che stiamo osservando in giro per il mondo non sono particolarmente incoraggianti. Ma non lo dice Enrico Giovannini, lo dice il segretario generale dell'ONU, che mentre noi discutevamo di Greta, ottima cosa, con delle cose ignobili che sono state scritte solo perché è una ragazza, il segretario generale dell'ONU diceva guardate che rispetto al 2015, benché abbiamo fatto passi avanti importanti, il clima generale è molto peggiore. Perché la crescita economica è molto più bassa. Perché? Perché è lì una lista. Allora, se crediamo veramente in tutto questo, c'è solo una cosa da fare. Unire i puntini, capire che quei segnali positivi, ma anche quei segnali di crisi, possono essere affrontati solo con una visione etica condivisa, che oggi non abbiamo, in Italia non abbiamo, e secondo che il tempo è estremamente limitato, anzi, è ancora più limitato di quello che immaginavamo. Questa è la seconda conclusione del segretario generale dell'ONU. E allora il senso di ansia, è stato detto, di urgenza, di impegno quotidiano, notturno, è quello che forse fa la differenza. Ed è quello che in qualche modo, di questo vorrei ringraziarlo pubblicamente, è quello che abbiamo condiviso con Pierluigi, Stefanini, anche con Walter Dondi, che manca qui l'ex rettore di Tor Vergata da qualche giorno, i quattro fondatori dell'ASVIS, in qualche modo, che ci ha presi quattro anni fa, quando abbiamo cominciato a parlare di queste cose, quando in Italia nessuno parlava di queste cose. Ed è un'ansia che purtroppo o per fortuna sta prendendo tante altre persone. Per fortuna perché è giusto, purtroppo perché sotto l'ansia, dipende dall'etica, non è detto che diventiamo più cooperativi, magari diventiamo più arraffatori di quello che possiamo oggi in vista di un futuro che sarà molto difficile. concludo. Le nuove generazioni, è stato detto prima, vanno abbracciate, è vero, vanno ringraziate, è vero, vanno sostenute, verissimo. Ma condivido con voi l'esperienza delle ultime settimane. Ero in un luogo tipo questo e una persona alla fine mi fa, la mia nipotina di quattro anni era in macchina con me e mi ha detto, nonno, dobbiamo partire. Sì, cara, dove vuoi andare? Su un altro pianeta. E perché? Perché questo pianeta è finito. Quattro anni. Lo raccontavo a una persona e mi diceva, mio figlio di otto anni mi angoscia tutti i giorni se abitiamo abbastanza in alto, perché quando i mari cresceranno noi ci salveremo? E io gli rispondo sì, certo. E mi dice, e il supermercato? Anche quello è abbastanza alto. Lo dicevo a un'altra persona, mi dice, mio figlio, 13 anni, ha sentito che forse vendiamo una casa che abbiamo in montagna e ci ha detto che non è una grande idea in questo momento, perché forse è il luogo dove dobbiamo... Allora, se noi stiamo trasmettendo alle giovani generazioni solo questo messaggio di angoscia, noi avremmo nella migliore delle ipotesi una generazione depressa, ma nella peggiore è una giovane generazione così arrabbiata che chiederanno giustamente conto, ma lo chiederanno non in senso cooperativo, ma in senso conflittuale. E anche questa rischia di diventare un'altra delle dimensioni insostenibili del nostro futuro. Grazie, grazie Enrico Giovannini. Io con Pierluigi Stefanini vorrei restare proprio su questa ultima parte dell'intervento di Giovannini, cioè quella del movimento generazionale che è venuto fuori. La prima parte del libro è dedicata a, diciamo, parlare del movimento di Greta, dei Fridays for Future e nel libro Stefanini dice una cosa che secondo me è molto significativa. Dice cioè che la cosa che gli piace di più di questo movimento è che dopo un bel po' di tempo ci sono delle persone, soprattutto giovani o molto giovani, che si preoccupano del futuro. Questo però, mi viene da pensare, Stefanini vuol dire che noi avevamo in qualche modo smesso di farlo. Allora, la necessità di proteggere in qualche modo questo movimento deriva anche da questo, da questa mancanza. Sì, dunque, intanto grazie per la vostra partecipazione, ovviamente grazie all'editore Gaetano Sateriale che ci ha stimolato pazientemente, grazie a te Fabrizio che ci hai stimolato in modo molto puntuale e anche intelligente e ovviamente grazie a Enrico che ci accompagna in questo percorso, in questa avventura, in questa ricerca per dare senso alle cose che facciamo. Ecco, in fondo poi lui parlava di etica giustamente e mi sembra che si possa dire che questo cimento, questo impegno in realtà ci interroga e cerchiamo di dare risposte al nostro ruolo, alla nostra funzione, al nostro compito, alla nostra responsabilità. e dunque occorre che cerchiamo, per quanto è nelle nostre capacità e possibilità, di essere conseguenti e di favorire percorsi che ci possano aiutare a cementarsi sul futuro. Noi siamo in crisi di futuro, non da oggi, ci sono importanti studiosi che da tempo ci hanno detto e ci hanno sottolineato che viviamo la dittatura del presente, non da oggi, da un po' di anni che ce lo raccontano e ce lo motivano e dunque comprendiamo bene quanto sia fondamentale invece cercare di avere davanti a noi la responsabilità e la visione che sì, ci deve aiutare a fare bene le cose oggi, che è fondamentale, ma non disperdendo mai in che direzione vogliamo andare, quali sono gli obiettivi più di fondo, lunghi, che dobbiamo avere in mente, sui quali dobbiamo lavorare. Questo vale per tutte le organizzazioni, a partire dalle imprese, perché se un'impresa non ha questa prospettiva e questa visione lunga, prima o poi va a sbattere da qualche parte, come purtroppo accade in molte occasioni. Se un'organizzazione politica, culturale, sindacale, associativa non ha questa dimensione di respiro lungo, corre il rischio di commettere errori e di non capire qual è invece il grado di trasformazione che continuamente dobbiamo saper mettere in campo. I giovani che si mobilitano sono un esempio molto, molto importante, ha ragione Enrico, la reazione che c'è stata in Italia su Greta è veramente ignobile e non è successo in altri paesi d'Europa, non è successo, anzi, in altri paesi d'Europa c'è stato un atteggiamento molto aperto, disponibile, interlocutorio, cioè nella direzione di avere confronto e di cercare di capire cosa questi giovani ci stanno dicendo. Poi lo dicono male, lo dicono con emotività, lo dicono con una forma anche se vogliamo a volte non propriamente consona come noi vediamo le cose ma ce lo dicono e credo che sia doveroso e fondamentale cercare di rispondere. Due considerazioni perché ho già portato via il tempo. La prima è questa, l'agenda 2030 ci aiuta molto ad avere una visione globale, noi abbiamo bisogno di avere una visione globale, voglio fare un esempio piccolo, piccolo ma molto significativo. Sabato scorso a Bologna il Comune ha riconosciuto Adriana Lodi dandogli il Nettuno d'Oro. Adriana Lodi fu assessora alle politiche sociali di Remogi al Welfare, allora non si chiamava così, e fu la persona andando a fare una visita a Stoccolma che scoprì che esistevano gli asili nido e sorse 50 anni fa il primo asilo nido a Bologna. Non voglio annoiarvi su questo, è solo per dire che a parte la sensibilità politica e culturale e sociale di quei tempi, straordinaria, a parte il fatto che l'asilo si realizzò su un terreno comunale realizzato da un privato, sottolineo, lo spazio era pubblico e i soldi li ha messi un privato, ma soprattutto l'idea di guardare cosa succedeva fuori da noi in quel momento e di capire che nel giro per il mondo possono esserci esempi, esperienze, realtà che ci possono aiutare ad evolvere. E allora l'agenda 2030, tra i tanti pregi che ha, c'ha anche questo, di aiutarci a capire, a conoscere, a cimentarci, a misurarci con quello che capita fuori da noi, per vedere se riusciamo a comprenderne le problematicità, le criticità e avere a disposizione strumenti che ci possano aiutare a fare bene. Concludo, tre esempi concreti. Primo, in un anno in Francia, poi non entro in merito politico, è bene, male, non è una valutazione contingente, però Macron attraverso risorse destinate ha contribuito a far sorgere 600.000 start-up di giovani. In un anno non sono poche, poi ne moriranno alla metà, un terzo non avrà prospettive floride sul mercato, tuttavia ha creato una risposta, una mobilitazione, un dialogo, un'attenzione verso tanti giovani che credo sia un esempio molto attuale. Nella proposta del rapporto 2019, ASVIS propone di istituire con il governo del Paese un patto per il lavoro ai giovani. Io spero, mi auguro che qualcuno prima o poi sia disponibile a raccogliere quest'idea. Secondo esempio, nel rapporto 2019 ASVIS propone sui temi della sanità di creare un gemellaggio tra le regioni del nord e le regioni del sud, non per trasferire risorse, non entro su questo, ma per aiutare le regioni del sud a vedere come possono migliorare, qualificare, innovare i sistemi sanitari di quei luoghi. Noi sapete bene che c'è una frattura tra il nord e il sud nella sanità che è molto preoccupante e grave. Terzo esempio, il governo l'ha assunto come orizzonte, orizzonte, ci auguriamo che diventi un fatto, prima c'era qui Walter Vitale che è un nostro stretto e formidabile collaboratore, portare avanti l'agenda urbana 2030, cioè creare le condizioni perché ci si cimenti sul terreno dello sviluppo delle città in modo adeguato. Tutti questi tre esempi non hanno costi per lo Stato, si possono cominciare a fare, si possono cominciare a mettere in programma, a portare avanti. Perché ho voluto fare questi esempi? Intanto perché sono importanti per il futuro del nostro Paese, intanto perché sono temi drammaticamente sentiti e irrisolti che il nostro Paese sta vivendo e poi perché concretamente facciamo vedere che l'agenda 2030 è lontana, è grande, ampia, globale e quindi anche inafferrabile, se vogliamo. In realtà volendo può essere uno strumento utilissimo per cambiare il nostro Paese. Grazie a Stefanini. Allora, secondo le indicazioni che mi hanno dato noi abbiamo 20 minuti, per cui io vi propongo di raccogliere gli spunti e gli stimoli che adesso Giovannini e Stefanini ci hanno dato per un secondo giro che però deve essere necessariamente veramente flash. Ripartiamo da Rita Ghevini. Sì, raccogliendo rapidamente perché l'impegno a essere propositivi che mi sembra ci sia stato lanciato. Ricordava prima colla il patto per il lavoro firmato in questo territorio. Siamo in una fase di rendiconto e di conto e di conclusione di quel patto. Io credo che l'impegno delle forze economiche e sociali di questo territorio sia quello di ingaggiarsi reciprocamente e insieme alle istituzioni locali per disegnare un nuovo arco temporale in cui insieme si possa lavorare a un patto per lo sviluppo sostenibile individuando alcune priorità cogenti per tutti. Sicuramente l'inclusione dei giovani al lavoro, lo stimolo di nuova imprenditorialità è uno degli elementi su cui dobbiamo puntare di più sia per ragioni ovvie legate all'intergenerazionalità sia perché abbiamo un profilo demografico in questa regione che ci obbliga altrettanto a fare dei giovani e della loro capacità di essere produttivi il driver su cui incardinare le nostre politiche. Ne cito altri due che credo debbano essere un elemento fondante di un patto su cui ingaggiarsi la progressiva e cogente riduzione della differenza di occupazione e di qualificazione fra i generi in ambito lavorativo nel nostro territorio. Siamo uno dei territori più evoluti e meglio collocati da questo punto di vista ma abbiamo ancora molto da fare e questo ci vincola anche a pensare un nuovo modello di welfare. L'ultima questione che voglio richiamare è quella dell'incardinamento delle politiche di sviluppo territoriale e quindi anche della valorizzazione della capacità delle imprese di investire in ricerca e sviluppo a obiettivi di sostenibilità. C'è un ruolo certamente delle imprese private delle imprese cooperative fondamentale per traguardare una nuova agenda ma c'è un ruolo importantissimo anche della committenza pubblica. L'ente pubblico può essere con le sue scelte, con la leva del public procurement un soggetto promotore di cambiamento. Abbiamo firmato venerdì con il Comune di Bologna, tanto per stare all'attualità il nuovo protocollo per gli appalti che traguarda i prossimi tre anni. Dentro ci sono in nuce gli elementi che possono servire a qualificare il rapporto pubblico privato in questo territorio, spingere in quella direzione ingaggiandosi a tre rappresentanze sociali e del lavoro, rappresentanze imprenditoriali e istituzionali e istituzioni può essere un modo per produrre cambiamento utile. Grazie mille. Alberto Vacchi. Io colgo lo spunto di Pierluigi relativamente al tema dell'imprenditorialità e del lancio e promozione del mondo start-up. Credo che uno dei grandi problemi è quello di trasferire alle nuove generazioni anche modelli particolari come quello che stiamo vivendo qui, perché noi viviamo anche questa sensazione diffusa di un mondo anti-impresa, quasi che l'impresa di fatto possa essere avversata per definizione e capisco anche le giovani generazioni abituate a vedere una forma di impresa molto particolare che certamente non ha nel processo di condivisione elementi cardini del proprio operare. quindi credo che una grande opportunità che noi abbiamo dove questo tipo di modello si è sviluppato e quindi diciamo qua, è quella di riuscire a promuovere con grande forza logiche di imprenditoria giovanile che hanno sempre visioni decisamente più sostenibili rispetto alle imprese tradizionali e provare a inserirle nell'ambito di questo processo anche culturale che dà opportunità nuove quindi in questo anche noi, parlo dal lato impresa, credo che possiamo fare molto possiamo fare molto non soltanto in termini di supporto finanziario assolutamente essenziale ma di supporto pratico in un percorso nuovo che certamente nel lancio di nuove imprenditorialità diventa essenziale perché se devi entrare in logica di nuova generazione devi avere approcci metodologici completamente diversi soprattutto nella forma di imprenditorialità nuova su tecnologie nuove e su idee nuove che in questo caso nell'ambito delle start-up certamente vengono promosse quindi in questo credo sia una sfida che il mondo dell'impresa deve cogliere sicuramente sarà uno punto interessante per cui sviluppare il prossimo futuro. Grazie. Segretario Intanto esce anche il tratto valoriale dei due autori che poi hanno messo nel libro e è molto bello in questa direzione il professore Stefanini, il presidente, e il professore Giovannini Giovannini faceva il tema dell'etica che la piegherai sulla democrazia mentre invece Stefanini faceva il passaggio di proposte anche legate al nostro paese perché se no si rischia di sempre di essere aerei e non si... quando la planata serve noi la vediamo un po' così attenzione che bisogna fare un corpo corpo con una cultura che non va bene adesso si poneva il tema dei nazionalismi e dei sovranismi che ahimè navigano con uno spessore notevole in giro per l'Europa se io guardo il mio paese è la cultura padroni a casa nostra ma guardate se in Germania hanno un raffreddore noi prendiamo la polmonite siamo sempre stati... abbiamo sempre bisogno di essere in rete con gli altri non avendo materie prime noi abbiamo avuto la genialità del fare di produrre, di essere in relazione, di vendere agli altri quindi siamo per nostra natura, la nostra storia è una storia di paese aperto e però c'è un cambiamento in atto inedito io faccio un esempio guardate sul terreno ambientale che farà la differenza quella... il come noi saremmo in grado di dare una risposta lì farà la differenza anche delle produzioni prendo la Germania ovviamente nota l'azienda manifatturiera in Germania oggi uno dei più grandi problemi che hanno è di stare sul tema Cov 21 perché hanno 44 centrali a carbone e quindi per smantellare quelle centrali è vero quando la Merkel dice farò 100 miliardi di investimento fanno 100 miliardi di investimento perché stanno spettando il tubo di Putin per fare dei turbogas oppure in Francia quando è scattata la reazione dei gilets jou quindi le reazioni sociali hanno a che fare con il sistema produttivo perché è scattata sui gilets jou? perché si è stata messa l'accise sul gasolio, sulla benzina perché? perché devono smantire 40 centrali nucleari non è che puoi fare Cov 21 a Parigi e avere 40 centrali nucleari e il nostro paese io penso che per sua anche scelta democratica vuol dire per via referendum non abbiamo il nucleare penso che abbiamo anche il tema della transizione gas e rinnovabili io penso che poi l'assendo dovrebbe essere più veloce però abbiamo una traiettoria anche giusta abbiamo società Tern e Snam che sono ottime società i grandi gruppi che stanno su quelle filiere sono noti Enel sta facendo uno spostamento inedito sulle rinnovabili Eni sta facendo investimento sull'itologico cioè io vedo un paese che ha cultura in quella direzione non è che non sta succedendo niente no io lo spostamento lo vedo lo spostamento inedito il problema è che non abbiamo ancora la mediazione tra questo spostamento che c'è rispetto a cosa mi succede sul lavoro e alla tenuta del lavoro guardate noi arriviamo da se ci pensate da tutti noi da una cultura che era quella della manifattura taylorista era ancora lì quella cultura è ancora lì l'abbiamo sempre snobbato questo taylorismo ma aveva una qualità quel taylorismo una l'aveva che aveva una capacità di integrare moltissimo perché quella marmitta della Forti la sapevano montare tutti e quando io montavo quella marmitta ero in grado di giocarmi il mio futuro montavo quella marmitta avevo il mio futuro la casa mio figlio studiava trovavo a lavorare quindi avevo una capacità di integrare molto forte nel tempo oggi abbiamo una novità che questa tecnologia ha una velocità che quando entra nei sistemi produttivi o hai le competenze o altrimenti spiazza e fa paura e se la tecnologia fa paura abbiamo un problema non può far paura la tecnologia perché ne abbiamo bisogno come il pane e nello stesso tempo dobbiamo governare la mediazione tra tecnologia sapere e competenze in grado di stare nel governo di questo grande cambiamento questa è la nuova mediazione io non lascio il tratto innovazione e umanesimo a Papa Francesco che tra laudato si e questa è un'esperienza ma è quanto di più progressista la discussione tra innovazione e umanesimo la mediazione lì è la nuova frontiera del sindacato degli imprenditori evoluti come abbiamo qui del pensiero come qui avete messo nel libro e in quello scenario dobbiamo governare una polarizzazione senza precedenti poi qui abbiamo dei soggetti io li chiamo i signori del silicio dov'è che la politica è sotto anche in Europa la politica non è più in grado di ridistribuire questi qua hanno una bocca di fuoco senza precedenti non solo economica di potere qui competono i dati le piattaforme di cia concentrano su questi soggetti un potere enorme e quel potere metto una ragione sociale in Irlanda pago lo 0,5% di tassi il lavoro è tassato il 30-35% se io non sono in grado di andare a fare quella ridistribuzione di quella ricchezza è evidente che non mi regge nemmeno la capacità pubblica di fare la mediazione sociale ambientale un bel problema e non la faccio compadrone Casanostra noi dobbiamo rifare l'Europa che abbia quel perimetro in grado di competere tra due soggetti che uno che inizia a mettere i dazzi i dazzi escono dai libri di scuola e ci arrivano addosso dall'altra parte siccome hanno paura dei dazzi entrano nel nostro paese come non mai con una bocca di fuoco senza precedente avete sentito parlare della via della seta segui i porti ho finito sono andato a Vado Ligure questi cinesi hanno preso tutto il porto di Vado Ligure perché hanno preso il porto di Vado Ligure è perché lì con la via della seta arrivano lì e con i binari del terzo valico vanno a Rotter vanno dentro la mitte all'Europa arrivano lì 400 lavoratori arriva questo ingegnere che conosceva 5 o 6 lingue il contratto più di me e vanno e hanno capito che lì hanno una traiettoria per entrare in Europa la prossima settimana dovrò andare a Trieste perché entreranno dentro la mitte all'Europa ecco padrone casa nostra di che cosa se io non ho un'idea del mio paese qual è la specificità del mio paese che è la capacità di governare le mie traiettorie le mie reti i miei sistemi che è la storia del nostro paese i nostri porti mantenere la nostra autonomia e guardare cosa sta avvenendo nel mondo hanno raddoppiato il canale di Suez la viene sul mondo noi guardiamo quella povera gente di quei barconi lì che allungheremo sempre la mano voglio dire ma dall'altra parte c'è un mondo che viene su ci gira attorno e non riusciamo a prenderlo perché non abbiamo più un'idea del come si fa sviluppo sostenibile abbiamo un'idea degli sgravi per campagna elettorale ma non stiamo pensando il paese rispetto ai grandi cambiamenti ecco questa è la responsabilità anche democratica che noi dobbiamo portare al cambiamento di questo paese ed è una discussione che la dobbiamo iniziare in fretta grazie grazie allora davvero in conclusione Pierluigi Stefanini e poi Enrico Giovannini ci siamo lasciati su diciamo un avvio di questo nuovo governo che almeno nelle intenzioni nelle intenzioni programmatiche era interessante poi in questi ultimissimi giorni che segnali avete beh io mi limito a ringraziare i nostri amici Vincenzo Colla Alberto Vacchi e Rita Ghedini grazie della vostra partecipazione a te Enrico benissimo rapidamente così andiamo anche sulla sulla cronaca tutti parlano di ILVA ILVA è la dimostrazione di cosa non si dovrebbe fare di come una situazione lasciata non gestita con anni di conoscenza diventa insostenibile e non ce n'è per nessuno perché è quella alternativa tra lavoro salute futuro presente a proposito dell'etica di cui parlavo ma la domanda che io faccio è quante ILVA possono esserci in Italia dove il rischio non è semplicemente uno scudo un l'ambiente ma le cose che ha detto Colla adesso allora a me piacerebbe visto che abbiamo dei rappresentanti di importanti del mondo economico italiano riuscite a mettervi insieme e immaginare con tutte le delicatezze del caso se non le singole imprese i settori che verranno maggiormente impattati da tutti i cambiamenti il tema della plastica è stato un esempio che ha di nuovo ma ce ne sono n perché appunto quella velocità di trasformazione mette a rischio tanti settori 900 pezzi un'auto con motore cioè un motore a combustione interna 100 pezzi un motore elettrico e quante mini ilva rischiamo di mettere l'altro giorno il presidente dell'asce mi diceva invitato a una presentazione non riuscirò ad andare incidente con le auto a batteria ti avvicini per aiutare il conducente e muori fulminato è un esempio per dire che tutte le nuove tecnologie ci consentono di fare grandi passi avanti ma vanno gestite e dunque ci stiamo pensando a tutto questo no è venuta la presidente futura della cop 26 cioè appunto dopo la cop 21 di 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 parigi ci sarà la cop 26 l'anno prossimo a Londra anzi insomma in Inghilterra Regno Unito se sarà ancora unito e mi hanno spiegato che loro sono anni in cui hanno i sindacati le associazioni imprenditoriali gli scienziati il governo che discute settore per settore agricoltura industria terziario edilizia come faranno nel 2050 visto che lo prevede una legge a essere carbon neutral ma non è che ci sono messi nei giorni scorsi sono anni che ci lavorano e hanno pensato che sia possibile per questo hanno passato una legge che saremo non che il presidente del consiglio va a New York e fa una dichiarazione così e non abbiamo un piano per raggiungere la carbon neutrality allora io credo che tra i tanti tavoli che il mondo economico debba chiedere al governo sia un tavolo di questo tipo settore per settore micro settore per micro settore per prepararci a quella transizione secondo welfare è chiaro che è la solo la formazione continua che consentirà forse di ridurre i rischi che il lavoratore che faceva la marmitta adesso passa sarà escluso gli scarti umani di cui parla Papa Francesco questo paese non ha un piano per la formazione continua delle persone io credo che voi abbiate il dovere di andare insieme a dire questo piano se non lo fate voi lo facciamo noi anche perché le imprese che stanno facendo il salto lo si vede dai dati Istat quando gli parli di sostenibilità sociale dice che state facendo formazione continua ai lavoratori quindi l'hanno capito ma manca il settore pubblico infine rendi contazione su questo noi come ASVI sbattiamo in modo incessante ma abbiamo bisogno delle vostre voci il governo nel 2015 ha limitato a poco più di 200 imprese spaventato dal costo che questo avrebbe determinato la rendi contazione sull'impatto ambientale sociale la governance stesso errore che hanno fatto gli spagnoli e l'hanno corretto nove mesi fa perché quella rendi contazione non è un costo certo non è banale ma è un elemento di competitività perché la finanza non si avvicina più a un'impresa che non rendi conto in quel modo quindi dovete impegnarvi perché il governo anche con la legge di bilancio abbassi quella soglia oltre 500 addetti e la porti a 200 250 magari con un periodo di transizione se fossimo stati ascoltati tre anni fa il periodo di transizione previsto dagli spagnoli tre anni sarebbe finito adesso e invece no siamo tre anni indietro ecco questi sono esempi molto pratici su cui credo che le parti sociali illuminate abbiano un ruolo fondamentale perché abbiamo bisogno di cambiare scusate mi sono dimenticato il quarto un sistema fiscale degno del ventunesimo secolo in cui si passi dal testo di economia 1 che si studia all'università con la funzione di produzione Cobb-Douglas capitale lavoro almeno alla funzione CLEM che si studia al secondo anno capitale lavoro energia e materie prime perché se continuiamo a giocare con piccoli interventi qua e là quel sistema fiscale non aiuterà gli innovatori aiuterà magari chi è indietro e la politica ha bisogno anche di capire che la leva fiscale non è soltanto uno strumento per fare cassa ma per orientare il sistema produttivo a capire dove vogliamo andare ecco anche un'iniziativa ASVIS è disponibile a fare da piattaforma con le parti sociali per provare a disegnare un sistema fiscale per l'Italia del ventunesimo secolo sarebbe un contributo straordinario alla sostenibilità del nostro paese grazie di cuore ai nostri interlocutori grazie a tutti voi e soprattutto al personale della biblioteca che ci ha aspettati fino a quest'ora grazie ancora e buona lettura